Vi presentiamo il Color Reader Pro. Si tratta di un dispositivo che serve a fare delle letture sui campioni. Il Color Reader possiede un tasto pulsante e un display. All'interno della scatola trovate la custodia in cui riporre sempre lo strumento quando non utilizzato, per proteggere il lettore, una piastrina per la calibrazione dello strumento e il cavo di ricarica. Prima di utilizzare il dispositivo, bisogna effettuare la configurazione tramite l'apposita app con smartphone o tablet. Sarà necessario inserire un codice che va richiesto al laboratorio Covema tramite e-mail o telefono. Cercare e scaricare l'applicazione Color Reader con l'icona dell'immagine. Terminato il download, aprire l'applicazione e abilitare il Bluetooth per collegare il dispositivo allo smartphone o tablet. Cliccare il pulsante Collegare e selezionare il dispositivo. Inserire il codice fornito dal laboratorio e cliccare su Successivo. Registrare i propri dati per creare il profilo utente, nome, cognome, e-mail e tipologia utente. Spuntare tutti i campi e cliccare su Registrare. Terminata l'operazione, il dispositivo è configurato ma non possiede ancora le mazzette colori. Per sincronizzare le mazzette colori, cliccare su Dispositivo. Spuntare tutte le cartelle e avviare il procedimento cliccando su Color Reader Sincronizzazione. All'interno dell'applicazione ci sono altre sezioni disponibili. Storico per visualizzare tutte le letture effettuate. Colori per visualizzare tutte le tonalità. Palette per creare delle cartelle o gallerie personalizzate. Prima di effettuare la prima misura, va sempre effettuata la calibrazione del dispositivo. Appoggiare il Color Reader sulla piastrina di calibrazione e cliccare su Calibrare. Ora siamo pronti per la lettura dei colori. Per effettuare la lettura, appoggiare il Color Reader sul colore da ricercare e cliccare il pulsante. Sul dispositivo apparirà una schermata con tutte le informazioni. Sono visibili tre letture, il colore individuato e i due colori più simili per Delta E. Il Color Reader non serve solo per rilevare il colore dalle pareti, ma è utile anche per molti supporti come legno, tessuto e tanti altri. Grazie a tutti.